buongiorno amici cari vi abbraccio tutti vi spero e spero di vedervi tutti se ci vediamo in compagnia si siamo contenti e per viviamo anche dei momenti insieme di felicità per me rivedere le facce dei miei allievi e delle mie allievi soprattutto avrete modo di sentire il saluto di vedermi di avere i saluti del rettore e anche ascoltare della buona musica e dopo visiterete tutti i luoghi del barbarico che avete sognato per tanti anni vi saluto e statemi bene vi abbraccio buongiorno